Gabriele Marconcina, Assessore della Cultura delle Comuni di Sansepolcro, perché da febbraio dell'anno scorso le visite al museo sono aumentate addirittura del 60%. Assessore, possiamo dire che è un ulteriore risultato raggiunto? Sì, è un risultato molto importante questo, perché sono numeri molto significativi, grazie ovviamente alle mostre, in corso ovviamente quella nel segno di Roberto Longhi, dedicata all'accostamento Piero della Francesca Caravaggio, dovute però anche a un modello di gestione del Museo Civico sicuramente più dinamico e moderno, che stiamo sperimentando e che quindi sta portando veramente a risultati molto importanti. Sono numeri davvero che non hanno precedenti, perché se consideriamo l'apporto in più che c'è stato rispetto anche all'anno precedente, noi possiamo dire che in 100 giorni, perché oggi ricorre per appunto il centesimo giorno, abbiamo visto 5.575 persone in più entrare all'interno del Museo Civico. Se uno volesse fare una media un po' bizzarra, però comunque dividere questo numero per le settimane, avremmo 390 persone alla settimana in più che sono arrivate al nostro museo. Quindi questo vuol dire che l'arte può essere veramente il cuore pulsante anche di questa economia, ma questo soprattutto deve mettere in primo piano il fatto che a Sansepolcro durante questo periodo stiamo proponendo un'offerta culturale comunque di primissimo livello. Ci stiamo lavorando tutti, ci stiamo lavorando come Comune anche perché poi all'interno di tutto questo la direzione del Museo Civico rimane saldamente in capo al Comune. Quindi abbiamo competenze esterne, però allo stesso tempo abbiamo un modello che ci permette di mantenere un forte controllo, una forte direzione scientifica su tutte le attività che vengono proposte al Museo Civico. In futuro ora arriveranno altre proposte molto interessanti, sappiamo ovviamente della mostra dedicata a Luca Pacioli che propone questo accostamento tra Piero della Francesca e Leonardo da Vinci, ma poi anche un'iniziativa che appunto lanceremo oggi nel corso della conferenza stampa, cioè quella che vedrà arrivare a Sansepolcro Steve McCurry. Dal primo di luglio fino a novembre poi avremo quindi la possibilità di sperimentare anche nella parte sottostante, diciamo al piano principale del museo, quindi nella Sala delle Pietre, un'offerta particolare, un'offerta contemporanea legata alla fotografia che appunto viene proposta anche giocando un po' forse sulla location in questa dimensione underground, sotto quindi il livello consueto della visita. E quindi ci sentiamo di dire che la sperimentazione si rivolge a Piero della Francesca, si rivolge al Rinascimento, ma è aperta a tutte le direzioni e non ultima appunto quella che ci proietta verso la contemporaneità. Apriamo una piccola parentesi, Assessore, anche su quella che è stata la serata del 20 maggio, con l'amico museo che ha riscontrato anche lì un bel successo. Assolutamente, anche quella sera abbiamo fatto 350 visite circa, quindi 10 turni di visite guidate, numeri importantissimi che rimarcano un dato, cioè quello che l'arte è veramente un elemento di grande attrazione, a partire anche dai residenti di Sansepolcro. L'importante in futuro sarà anche coltivare questo, cioè il legame che c'è tra la cultura, l'arte e i residenti della città. Non possiamo riproporre modelli come quelli che in qualche modo avevamo qualche anno fa, quelli che permettevano anche di entrare gratuitamente al museo in virtù di questa residenza Biturgenze, proporremo qualcosa di diverso che andrà a legittimare e giustificare la gratuità però attraverso l'iscrizione in biblioteca. Quindi attraverso questa tessera della biblioteca, che di fatto certifica poi anche una vicinanza al mondo della cultura locale, sarà possibile quindi entrare gratuitamente al museo civico. Questa è una disposizione su cui stiamo lavorando e sicuramente per l'autunno riusciremo a renderla pratica. Assolutamente, siamo contenti e convinti di aver fatto la scelta giusta. Oggi poter dire che in questi 100 giorni 5.500 persone più dello scorso anno con un incremento del 60% delle presenze è sicuramente un successo. Anche questa proposta di Mosche che deriva dall'accordo con il Comune di Milano e che verrà nei prossimi giorni ad aprirsi di noi, Mosche ha portato all'interno della città una proposta veramente di valore. Questo ha creato anche un meccanismo di indotto, dunque quelli che sono la ristorazione, ci sono incrementi dati dall'associazione dei commercianti, da Commerci e Confesercenti, che possono essere su un 20-30% di incrementi. Dunque è una soddisfazione in un momento particolare e di questo siamo veramente contenti. Allora, il 5 di novembre termineranno le mostre, ci sarà un bando qualitativo dove ci auguriamo che partecipino le realtà importanti di livello nazionale per fare una proposta seria. La direzione del museo, la conduzione rimane in capo all'amministrazione, alla città. Sarà costituito un comitato scientifico di indirizzo. Dunque è una strutturazione che verrà nel prossimo Consiglio Comunale la presentazione da parte della maggioranza di un ordine del giorno e sarà una discussione aperta fra tutta la compagine del Consiglio. Sì, venerdì noi sarà l'inaugurazione della mostra di Luca Paceoli, il crapiero della Francesca e Leonardo da Vinci. Il 10 la mostra aprirà. E l'11 abbiamo una giornata speciale, una giornata dove una prenotazione presso la Biblioteca Comunale avrà un diritto all'ingresso gratuito. Dunque è una giornata di apertura alla città e a tutti quelli che vorranno essere presenti. La cosa è che questa mostra durerà fino al 25 settembre per poi dopo avere un'altra proposta bellissima, moderna, diversa, nella Sala delle Piecre. Dal 1 luglio al 5 novembre avremo l'esposizione della mostra Icons di Steve McCarrie, il più grande fotografo vivente che esporremo queste foto, la ragazza degli occhi azzurri, la ragazza afghana, una presenza, un target qualitativo diverso che porterà comunque presenza in città.